Benvenuti, vediamo come scaricare Blender 2.79 Andiamo sul sito blender.org e scarichiamo direttamente da qui La cosa più semplice in realtà è andare nella finestra di download e non scaricare l'installer di Windows ma andare nelle altre versioni e la versione che di solito si preferisce far scaricare è la versione zip se siete su Windows, 64 bit e analogamente anche su Linux sono versioni simili su Windows di solito è meglio non installare l'installer perché scaricando la versione .zip si riescono a eventualmente lanciare versioni diverse senza dover reinstallare tutto quindi noi scarichiamo e abbiamo Blender 2.79b Windows 64.zip aspettiamo che lo scarichi benissimo ce l'ha scaricato ora apriamo il nostro zip dentro abbiamo la versione .279b Windows 64 e cerchiamo di installarla in un punto quindi facciamo Windows E per esplorare e poi io di solito tutte le mie applicazioni le metto sotto Apps voi ovviamente potete fare diversamente quindi Blender 2.79b con l'utilità di sistema fate l'unzip e lo mettete nel direttorio di destinazione ok, quindi a questo punto abbiamo abbiamo la nostra cartella Blender 2.79b Windows 64 entriamo dentro la cartella e andiamo a lanciare il Blender.exe questo qua non il Blender Player ma il Blender.exe quando viene lanciato abbiamo 2.79b abbiamo il logo clicchiamo e prima di insegnare a usare effettivamente Blender in questo primo video vediamo la configurazione di Blender che suggerisco allora la prima cosa io cambierei i colori perché vedete che questi abbiamo un nero su grigio che sono per me almeno di difficile lettura e quindi vado su File clicco User Preferences e poi vado su Temi e nei Presets in realtà cerchiamo io potete sceglierne altri ma per questo corso io suggerisco Science Lab Science Lab vedete che è abbastanza pulito è sul blu e il contrasto è molto ben definito quindi ideale per chi ha problemi anche di vista l'altra cosa che suggerisco mentre siamo nella User Preferences quindi ricordiamoci salviamo User Settings andiamo a cambiare la lingua e mettiamo la lingua andiamo su System poi scendiamo leggermente questa finestra e poi clicchiamo International Fonts nel linguaggio mettiamo Italiano e poi clicchiamo Interfaccia suggerimenti nuovi dati salviamo a questo punto Blender scriverà tutto in italiano andiamo avanti altre cose che suggerisco fortemente e di qua clicchiamo su Ruota attorno alla selezione fondamentale perché consente di fare l'orbiting in maniera istintiva poi altra cosa che potreste voler modificare è la scala se è troppo piccolo sul vostro computer potete mettere una scala per esempio 1.20 1.30 per il video ad esempio 1.20 diventa probabilmente utile se no andate cliccate fate 1.20 e avete la scala quindi all'inizio magari per trovare subito le varie opzioni potete mettere 1.20 e poi quando ormai conoscete tutto potete tornare a 1 un'altra cosa che metto spesso è l'annulla vedete che i passi di annullamento adesso sono 32 mettiamo 256 che è il massimo questo equivale a dire quanti CTRL Z potete fare un'altra cosa per chi di voi non avesse eventualmente il mouse si può emulare il mouse dei tre bottoni se siete su mac ad esempio è possibile cliccare in questo modo e a questo punto come vedete si può emulare il tasto centrale con alt più click e un'altra cosina simile però diciamo che io raccomando di avere il mouse normale altra cosa alcuni portatili potrebbero non avere il tasto numerico anche questo io consiglio di averlo sempre ma nel caso emuliamolo e quindi invece di premere i numeri sul tasto numerico si premono i tasti da 1 a 0 che stanno nella prima riga della vostra tastiera ricordatevi sempre di salvare l'impostazione utente in questo modo anche se uscite quindi usciamo e poi riclicchiamo blender.exe e entriamo con le configurazioni quindi col tema italiano eccetera indicate poi per evitare di perdervi consiglio di aggiungere il blender alla barra delle applicazioni perfetto a questo punto siete in blender quindi se prevedete il tasto centrale del mouse e ottenete premuto e muovete il mouse muovete tutta la scena e se cliccate col tasto destro vedete che sto cliccando sul tasto destro l'elemento che sono il cubo la telecamera o la luce vengono selezionati con il bordo blu il colore di questi bordi dipende dal tema usato ecco perché se usate se seguite il mio corso e i miei video vi consiglio di usare questo tema science lab in modo tale che vi ritroviate con tutti i colori e con le diciture che saranno tutte in italiano con questo è tutto questo è il primo primo video del corso e che dovreste seguire tutti prima di partecipare ci vediamo 19 aprile buonasera